ragazzi Rosa si stava per sfondare ecco in faccia al muro allora noi stiamo andando sì io andavo in faccia al muro e poi dopo andiamo a comprare un arredamento per la nostra casa un incidente permettendo siamo indecisi tra Zarao, Michele e Cinese ciao Donato Donato che faccia non ha perché non ci vede è una donna allegra è esatto quindi raggiungici dai ci dai qualche hanno chiamato i carabinieri per la guida spericolata Rosa per rotta no 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 dritto dritto potrei non rispondere esattamente Adele questo traffico non ci piace no quindi noi vogliamo dire alle persone che oggi gioca a Napoli vogliamo ricordare che gioca a Napoli quindi andate bella dente andate a vedere la partita andate 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 allora noi stiamo andando alla ricerca di Adele che non prende l'ascensore quindi adesso devo mettermi a cercare dove si è finita la vivanza andiamo a vedere se è salita eccola lì non comprate le labotan di vernice consiglio spazionato perché altrimenti vi troverete in macchina con Adele vecchio è colpa del vecchio vento e vento mi ha asciutto come tanta l'acqua a l'acqua a